Un pranzo natalizio è stato offerto a 650 persone bisognose di Mississauga presso l'Etherport Convention Center dalla famiglia Gino Molinaro, titolare della rinomata società Molinaro Fine Italian Foods, produttrice di pizza e altri cibi surgelati nella città di Mississauga. Vivo in questa città da 50 anni e grazie a Dio il Canada mi ha dato molto e da tempo desideravo offrire a persone meno fortunate della nostra città un pranzo natalizio nonché il nostro calore e affetto, ha detto Gino Molinaro, emigrato in Canada più di 50 anni fa da un paesino della Calabria. All'evento hanno presenziato varie personalità politiche, tra cui Mario Sergio, ministro dei seniors della provincia dell'Ontario, anche gli originari della Calabria, addirittura dello stesso paese di Gino Molinaro. Il ministro Sergio ha lodato la famiglia Molinaro per la sua iniziativa benefica e ha ricordato che le organizzazioni degli anziani potranno usufruire di grants per le loro attività. Al pranzo, svoltosi per un intero pomeriggio, hanno partecipato anche molti bambini ai quali Babbo Natale ha portato tanti doni. Tutti hanno gradito il pranzo offerto dalla famiglia Molinaro che si auspica che il suo gesto incoraggi altri titolari di aziende di Mississauga a fare altrettanto. Enzo Di Mauro, italnews.ca